Da giocatore esperto e anche da capitano non credo che tu possa essere soddisfatto di un girone di andata terminato a quota 18 punti. Sicuramente si poteva fare meglio, questo è poco ma sicuro. C'è un po' qualche punto che abbiamo lasciato per strada in alcune partite e sicuramente potevamo avere qualche punto in più, questo è poco ma sicuro. Però penso che comunque la squadra è come in ogni partita del massimo, questa è la cosa principale per me e per tutta la squadra. Lottiamo, corriamo su tutti i palloni e cerchiamo comunque di fare il meglio possibile. Purtroppo a volte ci riesce a volte no, però sicuramente dobbiamo fare meglio in questo giro di ritorno. Sono un a zero della Reggiana, è stato più bravo Altinger a non farsi vedere o l'arbitro ha commesso d'errore? Dal campo sembrava molto evidente perché comunque io stavo davanti a lui, avevo la posizione, appena sono saltato mi ha spinto. Dal campo era molto evidente, poi l'arbitro ha optato per un'altra scelta purtroppo, ma ripeto, dal campo era evidentissimo. Mi ha spinto, mi ha sbilanciato, facendomi perdere ovviamente il tempo. Si riparte da quella buona mezz'ora del primo tempo per affrontare l'ultimo impegno del 2017, tra l'altro proprio Albonoles. Sì, 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 sono d'accordissimo, nel senso che abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo, ho giocato da squadra vera contro un'ottima squadra, la Reggiana che gioca molto e con giocatori forti. dobbiamo ripartire da lì, affrontiamo una squadra che sappiamo, un'altra squadra che gioca molto, piace giocare la palla fino alla morte, quindi sappiamo già come e che affrontiamo, avendoli già affrontati in un giorno d'andata e sappiamo bene tutto quello che dobbiamo fare. Esprimi un desiderio per il nuovo anno? Sicuramente migliorare questa classifica è poco ma sicuro, prima possibile, così poi magari possiamo divertirci e magari essere più liberi mentalmente, perché come ho detto altre volte, parecchi ragazzi ovviamente, siamo una squadra giovanissima, magari essendo più tranquilli uno si libera mentalmente, sta molto meglio e rende molto di più. Vuoi fare gli auguri ai tifosi del Teramo? Sì, faccio gli auguri a tutti i tifosi del Teramo, di un buon Natale e un felice anno nuovo.